Dopo più di 38 anni al servizio del Comune di Agropoli, il comandante della Polizia Municipale, Carmine Di Biasi, dal 1 settembre sarà collocato a riposo per raggiunti limiti di età. Il prossimo lunedì il comandante verrà festeggiato per la sua pensione presso la Casa Comunale, una lunga carriera alle dipendenze dell'amministrazione agropolese iniziata il 1 aprile 1982, con l'assunzione a tempo indeterminato come vincitore del concorso da vigile urbano, carica che svolgerà fino al 31 dicembre dello stesso anno, per poi diventare dal 1 gennaio 83 fino al 30 agosto 1998 istruttore di vigilanza con compiti di direzione del servizio di polizia giudiziaria e tutela del territorio. In seguito raggiungerà il ruolo di addetto al coordinamento e controllo del personale della Polizia Municipale fino al 31 dicembre 2000. Dal primo giorno dell'anno 2001 infatti sarà nominato vice comandante del Corpo di Polizia Municipale e sostituto funzionario responsabile dell'area 8. Vigilanza, Polizia Locale, Protezione Civile in forma giovani. Per quasi 18 anni Carmine Di Biasi ricoprirà questo ruolo fino al 1 dicembre 2018, quando ha raggiunto l'apice della carriera con la nomina comandante della Polizia Municipale e funzionario responsabile dell'area 8. Ad ora si trova al comando di 20 unità effettive, più da 10 a 20 vigili e ausiliari e al coordinamento di oltre 50 addetti tra volontari e dipendenti. Un uomo ligio al dovere con una grande carriera, persona seria e competente che ha reso il rispetto delle regole il suo obiettivo principale nel mondo lavorativo. Ora sarà salutato con tutti gli oneri del caso dopo tanti anni di servizio nel comune di Agropoli. A prendere il suo posto sarà Maurizio Cauceglia, attualmente vice comandante della Polizia Locale Agropolise.